Ehi! Ciao! Sei in ritardo? Piccola! Sei pronta? Te le riporto domenica dopo pranzo! Solo cibo sano, ok? Niente pizza! Cinque dollari se non lo dici alla mamma! Facciamo 35 a fare fatto! Ti servono dei piatti! Papà, guarda! Sono una signora! Che bella! Me la compri? Tutto quello che vuoi! Dentro c'è qualcosa! Strano, non ci sono serrature fuori! Che vuol dire? Che chi l'ha costruita non voleva che fosse aperta! Stai bene? Mi sento un po' strana! Hai notato niente in Emily? No! Perché quella scatola è importante per te? Non lo so! Lo è e basta! Smettila! Emma! Smettila! Non so cosa restia succedendo! C'è un'incisione sopra! C'è scritto... Deepik! Em, dove sei? In ebraico vuol dire demonio! Che vuole questo spirito da mia figlia? Di solito si in possesso dei bambini! Emma! Mamma! Chi sono io? Quando la scatola viene aperta, la gente muore! I medici non ci possono aiutare! Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onipotente! Sotto le sue ali troverai il rifugio! Mio Dio! La sua fede... Lascia in pace mia figlia! Ho visto qualcosa dentro di lei! Ho visto qualcosa dentro di lei! Mio Dio! Che la fede! Che la fede... Grazie.